l'ho fermato non andava da nessuna parte ma cercava di rialzarsi va bene va bene comunque ferma uguale a quell'altro sarà 35 40 kg guarda io i cani non li sento neanche bagliare perciò sono distanti bene comunque arrivano qui c'è da guardare in troppi posti bisogna esserci uno di più se non è un casino da il trono è andato a passare dove non è mai passato non c'è mai messo nessuno laggiù è andato a passare è andato a passare è andato a passare so poi ma ne arriveranno cani su sto cinghiale ma ne arriveranno cani sui un piccolo orto un piccolo orto